O Dio! Che hai scelto il Deato Raimondo per fare di Lui! Un Ministro illustre del Sacramento del Battesimo! E che Gli hai fatto miracolosamente attraverso le acque del mare! Concedi a noi attraverso la Sua intercessione! La grazia di produrre frutti di penitenza! E di giungere un giorno al porto della salvezza eterna! Per Cristo nostro Signore! Amen! Padre nostro che sei nei cieli! Sia santificato il Tuo nome! Venga il Tuo regno! Sia fatta la Tua volontà! Come in cielo così in terra! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Rimetti a noi i nostri debiti! Come noi li rimettiamo ai nostri debitori! E non ci indurre in tentazione! Ma liberaci dal male! Amen! Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te! Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù! Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte! Amen! Gloria al Padre! Al Figlio! E allo Spirito Santo! Come era nel principio! Ora e sempre! Nei secoli dei secoli! Amen!